Nicolo Sola, soprattutto nel primo tempo un Ciliverg è troppo brutto per essere vero in piena balia della Folgole Catesa. Sì, siamo partiti magari con un po' di paura, magari con un po' di timore di fare le cose che sappiamo fare e per questo abbiamo chiuso il primo tempo sotto di due reti, però consapevole del fatto che possiamo fare molto di più. Ecco, nel secondo tempo un minimo di reazione c'è stato, un solo tiro in porta, però spiace uscire così dalla Coppa Italia. Sì, spiace perché è una competizione nella quale la società tiene molto e abbiamo dimostrato comunque con tutti di poter fare le nostre partite. Spiace soprattutto per il primo tempo, però la reazione soprattutto nel secondo tempo può essere stata positiva e possa ripartire da lì. È difficile magari nel primo tempo giocare con tanti interpreti che insieme non si erano mai trovati fino ad oggi? Sì, però non può essere una scusante perché comunque anche a Mantova abbiamo giocato con gente che magari gioca meno. È stata magari una questione di paura, magari di troppo timore di cercare delle giocate che sappiamo fare e dobbiamo scrollarci di dosso questa paura e fare quello che sappiamo fare. Ha mancato un po' di grinta anche forse? Sì, anche un po' di grinta, un po' di coraggio. Domenica deve esserci un pronto riscatto a Breno dopo due sconfitte consecutive. Sì, sappiamo che andare a Breno non è facile, però comunque un derby e già da domani cominceremo a pensare a quella partita per cercare di presentarci nel miglior modo possibile e portare a casa i tre punti. Grazie.